Due giornate per progettare le metropoli dei prossimi anni e per condividere esperienze di mobilità e di trasporto pubblico. Al Mobility Tech l'11 e 12 giugno a Castel del Lovo si discute di tecnologie, sostenibilità e città digitali. Il Comune di Napoli si confronta con la Regione Campania ed altre istituzioni e illustra i risultati ottenuti in un anno di politica sulla mobilità cittadina, ad un tavolo che ospita anche le imprese che realizzano tecnologie per i trasporti. Sul lungomare pedonale sfilano un autobus ed alcuni automobili totalmente elettrici, vale a dire a emissioni nulle. Abbiamo provato cose importanti come la ZTL Centro Antico, come abbiamo proseguito il lavoro sui cantieri della metropolitana, tra poco aprirà Toledo, poi tra un anno sarà la volta di Piazza Garibaldi e l'anno successivo ancora di Municipio. Finalmente orizzonte alla portata dell'amministrazione dei cittadini. Poi per ultimo è arrivata la ZTL di mare, quella che ha suscitato più discussioni con la pedonalizzazione del lungomare. Il tutto fatto con un'idea di futuro della città di Napoli, che è quella di una città alleggerita da flussi di traffico impropri, di attraversamento, che quindi non portano ricchezza ma solo inquinamento e congestione. L'assessore regionale ai trasporti, Vetrella, annuncia l'arrivo di strumenti di innovazione, come la carta elettronica per il car sharing e il bike sharing, che servirà anche a produrre una mappatura più accurata dei flussi di traffico. Stiamo verificando, dice il sindaco De Magistris, la possibilità di prolungare l'orario della metro fino alle 2 nei weekend, per rendere sempre meno necessario l'uso dell'auto in città. L'assessore alla mobilità, Anna Donati, fa il punto sulla situazione della mobilità dopo un anno di interventi e iniziative. La ZTL del Centro Storico, promossa anche dall'UNESCO, ha alleggerito di oltre il 70% la pesante situazione del traffico nell'area fra il Museo e Piazza Dante, ma anche in altri punti nodali del centro, migliorando nettamente la qualità dell'aria. Via Pessina, Piazza Dante, dove c'è la corsia riservata e il varco telematico, prima contavamo 21.000 veicoli al giorno, adesso sono 6.000 nelle due direzioni e generalmente le centraline, per quanto siano molto imperfette, gestite dall'ARPAC, lo voglio ricordare, comunque ci hanno dato degli indicatori di veramente abbassamento del livello di inquinamento rispetto agli anni precedenti. Questa è un'iniziativa importante, pubblica, dove si discute sulle città del presente e soprattutto del futuro, che puntano sull'elettrico, sulla mobilità alternativa, sulle biciclette, ecco un autobus elettrico. Ieri ci hanno consegnato tre autovetture elettriche per il comune, alcune bici già le abbiamo. Entro l'anno dovrebbero partire le prime postazioni di bike sharing con circa 400 biciclette in città, quindi siamo partiti. Il forum ospita lo hackathon della mobilità, una gara di programmazione fra giovani esperti di informatica per la realizzazione di applicazioni rivolte ai cittadini sui trasporti e sulla città sostenibile.